Al via la seconda parte della rassegna musicale Ferrara in Jazz 2018-2019 a cura del Jazz Club Ferrara. Un ricco programma che vede il Torrione riaprire i battenti sabato 19 gennaio e che avrà un significato particolare nel mese successivo. Significa che il 28 febbraio del 2019 ci torneremo al Torrione e chiaccheremo di questa bellissima realtà ricordando gli amministratori dell'epoca, i soci illuminati dell'epoca che ho ricordato anche prima in conferenza, che hanno permesso di avviare questo tipo di esperimento culturale di situazioni in cui si riesce a gestire al meglio tutto quello che la musica dovrebbe riuscire a unire quindi l'età, le passioni, le differenti idee, una commissione di tutto che rende felici tutti e rende contenti tutti. Intanto continuano i riconoscimenti per il Jazz Club Ferrara. Noi prima abbiamo parlato dei vent'anni di vita del Torrione, naturalmente il circo d'amici del Jazz era nato nel 1977 ben prima e altri numeri che quest'anno riusciamo e abbiamo l'onore di esibire sono appunto questo premio che il Jazz Towers ci conferisce per il settimo anno di fila come migliore jazz club italiano e siamo avanti a club di Torino, Milano, Roma e quant'altro e poi anche il fatto che ci sono, che musica jazz, un'altra rivista molto nota in Italia ha segnalato l'articolo Tower Jazz Composer Orchestra come nella top ten appunto delle orchestra jazz in Italia quindi tutti i numeri importanti che ci onoriamo di poter portare a questa città che è splendida che da sempre accoglie il Torrione e gli appassionati di musica jazz nel migliore dei modi. Ricco il programma che accompagnerà i frequentatori del Torrione fino alla fine di marzo con la presenza anche di eventi collaterali. Tutti i colori del Jazz anche grazie alla collaborazione con il Cinema Boldini Siamo alla seconda edizione di Boldini Sounds Jazz una rassegna che si promuove appunto la divulgazione del linguaggio di matrice jazzistica anche attraverso la settima arte saranno tre le pellicole che verranno, pellicole tra virgolette ormai che verranno proiettate nei mesi di febbraio, marzo e aprile alla sala di Via Previati qui in città e ve le riveleremo a breve Invece per quel che riguarda le arti figurative come diceva prima il nostro presidente le nicchie del Torrione si prestano particolarmente e da anni sono scenario appunto di succedersi di vernici di diversi artisti, fotografi, disegnatori Grazie a tutti Grazie a tutti